Eccomi, 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 buonasera amici e amiche rossoneri, ragazzuoli belli, buona serata di questo martedì 28 giugno 2022, che ore sono? 19.01, le notizie sono belle e fresche ragazzuoli belli, e buon mercoledì 29 giugno 2022, se mi vedi il giorno dopo, allora ragazzi e ragazze, tifosi rossoneri, seguaci, follower, chiamatemi come volete, chiamatevi come volete, voi, voi stessi, i miei follower, il vostro Alex, dovete stare calmi, ragazzi, dovete stare calmi, siete sempre troppo agitati, o in un senso o nell'altro, troppo in tutto, contestate la proprietà perché non ha preso quello, e leggete la notizia della Repubblica, Maldini è già firmato, di qua, di su, di giù, calma, calma. Allora, il concetto è questo, perché vi dico calma, la notizia è della Repubblica, molto probabilmente quella della Repubblica, del gruppo Gedi, degli El Canagnelli, che sia chiaro, hanno avuto una soffiata che nessuno ha avuto, cioè che Maldini è già firmato, ma fino ad ora non c'è niente di ufficiale. Allora, zucchine belle, vi voglio ricordare che questo venerdì che arriva è il primo luglio, il vostro Alex, molto semplicemente, io non sono né commercialista né niente, vi ho sempre detto, le annate fiscali finiscono il 30 giugno, l'annata fiscale 2021-2022 finisce questo 30 giugno, L'annata fiscale nuova inizia il primo luglio, cioè questo venerdì, 2022-2023. Mi avete capito? Siete dei boccaloni, siete dei boccaloni, lo dico in senso buono. Leggete la notizia, il titolone e ci cascate su. Calma, magari l'ufficialità che adesso sono le ore 19.02 poi avverrà stasera, non so, alle ore 20.30, alle 23, a mezzanotte, che ne so, però il mio modesto parere è questo, cioè si va a guardare la fiscalità quando inizia. Quando inizia? Il primo luglio, fra pochi giorni, oggi è martedì, mercoledì, giovedì, fra tre giorni inizia la fiscalità 2022-2023. Verrà annunciato domani, bene, io sarò contento, saremmo tutti contenti, ma state calmi, questa è la mia idea, questa, lo ripeto, è la mia idea. Io mi metto nei panni nella nuova ruota, farei scattare gli stipendi, il pagamento e tutto, quando si apre la nuova fiscalità. Visto e considerato che dovevo anche firmare sto cavolo di settlement agreement, soft, soft, gli altri firmano uno un po' più pesantuccio, noi il soft, insomma, vedete voi. Poi lo ripeto, può succedere domani. Per cui, domani, per cui il rinnovo di Maldini, Massale e Moncada, non c'è dubbio su questo. Gli altri fanno solo, solo, solo chiacchiere. Allora, ragazzoli belli, per cui penso di essere stato abbastanza chiaro. Ringrazio anche alcuni di voi che mi hanno scritto, Maldini ha firmato, ma dove l'Eletro? L'Eletro della Repubblica? L'Eletro della Repubblica. Calma. Io vi ringrazio del vostro avviso. Scusate un attimo che devo abbassare il volume di una cosa. Eccoci qua, che poi è la bella notizia di oggi che anche il nostro berrettini non può andare avanti in Wimbledon perché è positivo al virus. Che pizza. Vabbè, comunque, ragazzi, il discorso ci siamo abbastanza chiariti. Penso di essere stato abbastanza chiaro. Io non voglio tagliarvi, tarparvi le ali e quant'altro perché bisogna essere un po' programmatici, bisogna attendere l'ufficialità. È cosa buona e giusta attendere l'ufficialità e basta. Ma tanto dubbi non ce ne sono. Punto e a capo. Le altre notizie. Allora, ragazzi, Ibrahimovic oggi invece ha fermato, questo invece è ufficiale. Questo contratto ponte di 100.000 euro al mese, beato lui, fino al gennaio 2023. Poi si vedranno le sue reali condizioni fisiche, quelle saranno. Lì si deciderà il contratto di Ibra, ma sarà meno della metà di quello che ha preso lui quest'anno, che appena ha trascorso. Poi c'è una bella notizia, ragazzi. Questo signore, il signor Renato Sanchez, ha deciso con il suo ego. Ecco, allora, prima c'è una rottura di scatola del volume. Adesso anche del telefono. Che rottura di balle, eh. Mamma mia, oh. Proprio oggi, quando vogliono rompere tutti le balle in un stesso momento, le rompono tutti. Comunque, Renato Sanchez, te ne dico una anche a te. Un po' come quell'altro dell'anno scorso, il nostro ex. Renato Sanchez. Allora, io lo ripeto anche adesso. Secondo me tu sei un gran centrocampista, sei un gran giocatore. Hai dei tocchi di classi incredibili. Tanti di voi però mi avete scritto la sua tenuta fisica qual è? Qual è la sua tenuta fisica? Allora, se il destino ha voluto così, che tu hai deciso il tuo ego, perché tu, caro Renato Sanchez, hai fatto il post che adesso a posteriori mi fa letteralmente scompisciare da ridere, perché te lo potrei evitare quel post, deciderò per la mia anima o per il mio ego. Ego, 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 Paris Saint-Germain, per cui a quello stavo per dire ragazzoni belli, una pernacchiona te la meriti, come una pernacchiona se la meriterebbe anche Butman. Alcuni di voi mi hanno scritto, ma Butman ha aspettato il mio. Ma voi che ne sapete? Ma voi che ne sapete? Sì, è vero che ha aspettato il mio in un certo senso, però è stato lui parecchie volte a dichiarare voglio la Champions League con un grande club. È andato in un club che non fa la Champions League, che prima che arriverà la Champions League dovranno sputare sudore per 3-4 anni, perché ci sono tutti gli altri grandi club in Premier League sopra di loro. Insomma, ci siamo capiti cosa sto dicendo. Questi scelgono i soldoni. Meglio lasciarli perdere e andatevene fuori dalle balle. Ieri è venuto fuori un casino tra la Roma e il Barcellona, perché la Roma ha rifiutato di giocare nel trofeo GAMPER, il storico trofeo GAMPER voluto da Barcellona, indetto per il 6 agosto. E allora praticamente il Barcellona minaccia Querela nei confronti della Roma. Sembra che, non è ancora detto, che il Milan possa partecipare al trofeo GAMPER il 6 agosto contro il Barcellona. Questa è una bellissima notizia. E adesso arriviamo alla notizia finale e poi vi saluto. Io ho sempre detto che questo giocatore fa un po' il furbo, che è uno che vuole andare a giocare in Premier League e che a me lui non convince come si è mosso. Avrò ragione io? Non si sa. Avrò torto? Non si sa. Resta il fatto che comunque sembra che il nostro Milan sia ancora su Asensio. Allora ragazzi, Asensio ha 26 anni e di un anno fuori dal limite dei 25 anni che vuole la nostra proprietà. Perché vi voglio ricordare, finché non c'è il closing, comanda Elliot, questo deve essere chiaro. Il closing avverrà a metà settembre con Gerry Cardinale. Però insomma Gerry Cardinale parla con Maldini, parla con tutti, ma l'azienda la manda avanti ancora Elliot ed Elliot dopo rimarrà nel Consiglio di Amministrazione. Finché poi, dopo, verrà liquidato totalmente con l'andare del tempo. Ragazzi Asensio è fuori di un anno dai parametri. Ok, è arrivato Righi, a proposito, e anche il telefono oggi rompe le balle. Allora, ha rotto le balle. Praticamente il volume dello stereo di là. Il telefono, adesso anche l'orologio, l'ai watch qua, insomma avete rotto le scatole. Non lo dico a voi, lo dico a tutti questi qua, che mentre sto registrando rompono le scatole. Volevo dire anche questa cosa qua, mi sono dimenticato prima. Oggi Orighi ha firmato, visite mediche passate, uno spettacolo, sono contento per lui e per il nostro Milan. Però ritorniamo sul punto del discorso, se no perdo il filo, il bando dalla matassa. 26 anni, un centrocampista che può fare anche dalla destra, ma soprattutto dalla destra. Insomma ragazzi, questo Asensio, nel suo ruolo, nella sua classe, comunque, un giocatore Real Madrid, sarebbe utile come il pane con noi. Ma Asensio sta facendo il furbo, lo ripeto. Perché la notizia viene fuori oggi che su Asensio c'è il Liverpool. Eeeh, fa sapere Asensio. Il Milan è una destinazione gradita. Io se viene al Milan faccio salti di gioia. Ma ancora con questa storia della destinazione gradita? Non è che ci sta ancora utilizzando, perché prima si parlava di Arsenal, adesso di Liverpool? Ma vedremo ragazzi, perché qui bisogna avere solo un po' di calma. Tutto verrà sistemato, sarà un grande Milan, io ne sono convinto. Siete solo voi che vi agitate, titoloni, la Repubblica, detto, Maldini e Friano. Ma state calmi! Ma dove volete andare? Ma dove volete andare voi altri? Ma dove volete andare? Ma che vi frega? Ma state calmi, state liberi e tranquilli, poltrona, fatevi una birrettina, un bel gelatino, e fuori di bala. E ascoltate il vostro Alex. Vi mando un abbraccio. Io lo ripeto, io farei tutto partire dal primo luglio in poi. Forza Mina, sempre e comunque e comunque. Ciao!